Buongiorno a tutti, ragazzi della Quinta Artistico. Allora, oggi è verosimilmente l'ultima, forse penultima, ma non oltre, video-lezione sul percorso e sul tema della natura. Come avrete visto dal titolo, questa video-lezione è dedicata a un autore ancora vivente. Quindi, sì, di fatto vorrei chiudere qui, o al massimo mi riservo con un'ultima video-lezione, magari anche con qualche spunto, diciamo, artistico di arte figurativa, ma comunque chiudiamo qui, ecco, a livello di autori di fatto della nostra letteratura, con Roberto Saviano, autore ancora vivente e anzi giovane, perché come potete vedere in questa scheda che ovviamente vi darò, pochi dati ovviamente sulla sua vita, anche perché è molto giovane, è nato nel 1979, laureato in filosofia e, diciamo, ha incontrato molta fortuna in ambito letterario, quando nel 2006 ha pubblicato questo, è difficile anche definirlo, diciamo, una specie di romanzo saggio, un docu-fiction anche, oppure ancora un saggio di ecocritica. Ecco, magari questi termini, magari li specificheremo meglio in un'ultima video-lezione, dai, sulla natura. Comunque, ecco, diciamo, questo testo molto particolare, Gomorra, uscito nel 2006, ha fatto sì che questo autore sorgesse alla rivalta, diciamo, della critica, ed entrasse, a tutti gli effetti, nelle ultime pagine dei libri di letteratura. Sul nostro libro non c'è, ma in realtà non è che non c'è, c'è nella versione, nelle espansioni digitali, quindi raccomando a tutti, se avete il libro cartaceo sotto mano, seguite le indicazioni, e non è difficile, non dovete iscrivervi, ovviamente, sul portale dell'editore, della Di Agostini, e poi potete scaricare, ma qualcuno penso l'abbiamo anche già fatto, no? Diciamo, queste espansioni digitali del nostro libro, e lì troverete qualcosa su Saviano. Poi la pagina che leggiamo oggi ve la do in scansione, e anche questo trafiletto non ce l'avete sul libro, però per dire che punto è entrato tutti gli effetti, lui, anche nei libri di letteratura. Nel 2008, poi, tra l'altro, è stato tratto un film da questo libro, un film omonimo, che magari, ecco, se riesco a recuperare, potreste vedere a casa, in questi giorni, ovviamente, sempre lunghi di quarantena, e poi anche una serie tv, questa probabilmente molti l'avranno già vista, è uscita nel 2014, poi hanno fatto più stagioni, sicuramente, sempre con il titolo di Gomorra. Poi, vabbè, tra l'altro, Saviano ha scritto anche altro, perché ormai sono passati quasi 15 anni, no? dal 2006, tra l'altro, lo troverete qui, ancora oggi vive sotto scorta Roberto Saviano, perché dopo la pubblicazione di questo libro particolarissimo, ha ricevuto tantissime minacce di morte dalla Camorra. Infatti, venendo al testo, Gomorra, appunto, qui avete anche qui qualche informazione per inquadrare questo testo, il titolo fa riferimento alla Bibbia, alle città, vi ricorderete, qualcuno forse si ricorderà, di Sodoma e Gomorra, che nella Bibbia, città viziose, vennero punite da Dio. Quindi è un riferimento alla corruzione degli abitanti, però abitanti di dove? Nel senso, Gomorra, appunto, quindi, non è una località precisa, ma il titolo è dato, appunto, su ispirazione biblica. Però tutto questo saggio, che è Gomorra, è ambientato in luoghi, ovviamente, reali, e sono quindi gli abitanti, diciamo, della Campania, in particolar modo nella zona di Caserta e Napoli, nelle province, diciamo, dell'Interlanda di queste due città. Quindi, sì, qui troverete che è un romanzo, poi ripeto, un romanzo saggio, forse è meglio dire un saggio di ecocritica anche, ma non solo. Fatto stare, diciamo, che è uno scritto in prima persona, ecco, che non parla assolutamente di cose fantastiche, ma racconta esperienze vissute direttamente dall'autore, e esperienze anche attentamente documentate, con atti processuali, citando anche indagini di polizia. L'oggetto dell'attenzione di Saviano è il mondo affaristico e criminale della Camorra, appunto, in Campania. Ecco, allora, il titolo, no, che vuole fare l'evo, appunto, sulla corruzione di molti abitanti dell'area di Napoli e Caserta, che sono stati coinvolti, a vario titolo, nel fenomeno mafioso, appunto, della Camorra, che Saviano chiama anche in questo testo con la parola di sistema, con la S maiuscola, no, per indicare, appunto, che la Camorra in Campania è diventata veramente quasi una organizzazione, è un'organizzazione criminale, ma che è diventata quasi una società finanziaria, che ha costruito, appunto, come trovate scritto qui, una rete di relazioni commerciali, non solo in tutta la nostra penisola, ma addirittura in tutto il mondo. Ecco, il genere letterario, appunto, abbiamo detto, un saggio di ecocritica, anche una docufiction, cioè, romanzo, se utilizziamo la parola romanzo, attenzione, perché romanzo, alla fine, nella parola stessa, no, per noi, ha la componente comunque di fantasia. Invece no, questo è un vero e proprio, ecco, reportage, ecco, possiamo dire un reportage scritto, la parola reportage, l'avrete già sentita, spero, nel linguaggio giornalistico, è un servizio, no, giornalistico, magari, ecco, un servizio d'assalto, un servizio che vuole rivelare verità scomode, e quindi, come tale, ovviamente, è il servizio giornalistico, qualcosa svolto oralmente. Questo è un reportage scritto, e il narratore coincide con l'autore, Roberto Saviano. Quindi è una prosa saggistica, sì, un saggio anche di ecocritica, poi magari definiremo questa parola meglio in una prossima video-lezione, per non accumulare troppe cose, o anche, possiamo dire sì, un reportage. Non diverso, se ci pensiamo bene, come genere letterario, da Sequest un uomo di Primo Levi. Passati tanti anni, però, cos'è che avevamo ricordato? Allora, Primo Levi vive nella stagione del neorealismo. Qui siamo nel 2006, quindi passati vari decenni, c'è stato di mezzo, abbiamo un po' parlato con Calvino, l'età del postmoderno, in cui tendenzialmente gli autori letterari si erano chiamati fuori rispetto alla scrittura di opere di denuncia. Ebbene, come avevamo però ricordato, dopo la fine del postmoderno, cioè dopo il 1989, e qui riprendo queste slide che vi ho anche messo su G Suite, quindi, va bene, le ritroverete facilmente, ma erano slide che avevo già proiettato in classe e ancora in presenza, dopo il postmoderno, che si è chiuso nell'89, quindi ormai tanti tanti anni fa, a livello, diciamo, di letteratura, a che cosa abbiamo assistito? al fatto che moltissimi scrittori e intellettuali abbiano deciso di impegnarsi nuovamente in battaglie civili, in denunce sociali. Un cambio di rotta, molto evidente poi ancora di più dopo il 2001, dopo la tragedia dell'11 settembre, e che ha spinto i critici, addirittura, anche a parlare, diciamo, proprio di una nuova epoca, l'ipermodernità. Nella lezione precedente abbiamo parlato di Giorgio Caproni e della sua raccolta Ressa Missa del 1991, da cui tratta la poesia che abbiamo commentato per sicoli quasi ecologici. Una poesia sicuramente, diciamo, impegnata, che voleva appunto comunicare, con cui il poeta voleva comunicare agli uomini che dovevano smetterla di comportarsi in un certo modo per salvaguardare il pianeta, la nostra casa, altrimenti le generazioni future ne avrebbero inevitabilmente risentito. Ebbene, Caproni scrive poesie, Saviano, ancora più recente, ovviamente rispetto a Caproni, perché è nato nel 79, ovviamente ancora vivente, ma anche Saviano si colloca su quella stessa linea, solo che scrive in prosa, scrive questa prosa saggistica, questa prosa reportage, ma sempre con lo stesso intento. Cioè l'intento è proprio quello della denuncia. Per Saviano lo scrittore deve anzitutto dire la verità. E se bisogna dire la verità, bisogna assistere di persona, documentarsi sul posto, esporsi direttamente. Ecco dunque perché, voglio dire, se dovessi fare mai, se sarò io, no, se sarò io dovrei, sì, essere io ormai a fare l'esame, ma se avremo una modalità, chi lo sa, orale, però una domanda possibile potrebbe essere proprio che corrispondenza vedi tra, non so, Primo Levi e Roberto Saviano. E la corrispondenza è proprio questa, no? Un turismo, ovviamente molto diversi, perché appartengono a epoche diverse, ma notiamo che l'ipermodernità, ecco, se vogliamo utilizzare questa etichetta, riprende molto dal neorealismo questa tendenza appunto a dire la verità e quindi lo scrittore, per dire la verità, deve avere assistito in prima persona agli eventi che racconta e deve sporsi appunto direttamente in prima persona. Solo così la letteratura può assumere una funzione civile, proprio come era avvenuto appunto tanti decenni prima nell'età del neorealismo, no? C'era l'urgenza di parlare della seconda guerra mondiale, della Shoah e di tutte, anche le conseguenze della seconda guerra mondiale. Ovviamente c'è una differenza rispetto al neorealismo nel senso che Saviano vive appunto nella nostra epoca in cui gli intellettuali non hanno più nessuna presa sul grande pubblico di fatto. Piuttosto, diciamo, che la centralità nell'informazione è stata conquistata dagli strumenti di comunicazione di massa e quindi la figura dell'intellettuale appunto, dell'intellettuale che guida in qualche modo l'opinione pubblica non è più possibile. Saviano rappresenta allora appunto la nuova realtà dell'intellettuale ipermoderno che è per definizione l'intellettuale periferico, precario e marginale, che però forse proprio per questo può rappresentare diciamo tutti gli esclusi e i marginali del pianeta e parlare anche a loro nome. In questo testo che adesso andiamo a leggere è che tra l'altro ecco è tratto sono proprio le ultime pagine con cui si chiude Gomorra abbiamo detto che appunto è una prosa saggistica in cui l'autore si rappresenta autobiograficamente nella realtà di un ricercatore precario che si reca sui luoghi del crimine nel napoletano e nel casertano. Le pagine che appunto chiudono Gomorra le leggiamo ora siamo nella terra dei fuochi quindi l'inchiesta di Saviano in questo libro si chiude tra gigantesche discariche di rifiuti. la terra di fuochi adesso allora diciamo che la terra di fuochi corrisponde alle campagne campane intorno a Casal di Principe quindi in provincia di Caserta e capiremo perché questa terra oggi viene così chiamata terra dei fuochi potete già immaginarlo comunque diciamo che il testo quindi Gomorra si chiude ecco tra queste discariche enormi di rifiuti le immagini di una discarica di una voragine di una cava divengono sempre più sinonimi concreti e visibili di pericolosità mortale per chi ci be' intorno quando le discariche stanno per esaurirsi si dà fuoco ai rifiuti ecco allora perché terra dei fuochi c'è un territorio nel napoletano che ormai è definito la terra dei fuochi quindi all'inizio di questa sequenza conclusiva di tutta l'opera Saviano descrive adesso descriverà quindi il funzionamento di una discarica abusiva in questa terra dei fuochi i rifiuti vengono accumulati per essere bruciati e perché? per ridurre il volume di questi rifiuti in modo tale da poter accumularne degli altri ma è ovvio e adesso lo dirà qual è la conseguenza di questo gesto scriteriato quindi tra i fuochi abbiamo capito il motivo il triangolo Giuliano Villaricca Qualiano appunto siamo in un'area proprio tra le province di Napoli e Caserta 39 discariche di cui 27 con rifiuti pericolosi un territorio in cui aumentano del 30% all'anno la tecnica è collaudata e viene messa in pratica a ritmo costante i più bravi a organizzare i fuochi sono i ragazzini rom i clan gli danno 50 euro a cumulo bruciato la tecnica è semplice circoscrivono ogni enorme cumulo di rifiuti con i nastri delle bobine di videocassette poi gettano anche le benzina su tutti i rifiuti e facendo dei nastri una miccia enorme si allontanano con un accendino danno fuoco al nastro e tutto in pochi secondi gli viene una foresta di fuoco come avessero sganciato bombe al napalm ecco per chi non lo sapesse in nota il napalm è una materia altamente infiammabile che era stata utilizzata tra l'altro anche per produrre le bombe ai tempi della guerra del Vietnam negli anni 70 da parte degli americani dentro al fuoco gettano resti delle fonderie colle e morchie di nafta fumonerissimo e fuoco contaminano di diossina ogni centimetro di terra ecco è chiaro che questo gesto scriteriato di dare fuoco ai rifiuti tossici per ridurre il volume quindi per accumularne altri ha delle conseguenze nefaste nell'ambiente e in particolar modo per l'inquinamento atmosferico è la produzione di una sostanza altamente cancerogena che è la diossina è ovvio che questo brano quindi già ci fa riflettere no? più che altro sul discorso dell'inquinamento atmosferico dell'aria e anche sul discorso dello smaltimento dei rifiuti perché questi rifiuti anche se Saviano lo dice esplicitamente sono ovviamente rifiuti industriali ad esempio delle aziende farmaceutiche e delle aziende chimiche che si possono smaltire ovviamente in modo legale che non è questo ma è la procedura molto costosa e quindi molti imprenditori ricorrono all'illegalità e nelle terre del sud Italia ricorrono alla Camorra questa grande organizzazione criminale per smaltire in modo illegale ma in modo illecito in modo anche molto pericoloso per la salute pubblica questi rifiuti altra conseguenza vabbè la prima conseguenza quindi comunque già gravissima appunto la produzione di diossina l'agricoltura di questi luoghi che esportava verdure e frutta fino in Scandinavia crolla a picco conseguenza anche diciamo sull'economia di quei luoghi i frutti spuntano malati le terre divengono infertili per non parlare conseguenze economiche che poi comunque hanno sempre ricadute in termini di conseguenze personali se questi frutti e questa verdura vengono comunque consumate perché senza accorgersene ecco senza che ce ne accorgiamo possiamo ingoiare assimilare cibi che in realtà sono altamente inquinati ma la rabbia dei contadini nello sfacello diventa l'ennesimo elemento di vantaggio poiché i proprietari terrieri disperati svendono le proprie coltivazioni e i clan acquistano nuove terre nuove discariche a basso bassissimo costo intanto si crepa di tumore continuamente un massacro silenzioso lento difficile da monitorare poiché c'è un esodo verso gli ospedali del nord per quelli che cercano di vivere il più possibile vedete quante riflessioni qui che si aprono adesso non dobbiamo neanche esagerare qui c'è addirittura una riflessione Saviano fa sulla sanità sul sistema sanitario nazionale che ha delle sue discrasie all'interno cioè evidente che più o meno lo stiamo vedendo anche in questi giorni che il sistema sanitario al nord Italia funziona nettamente meglio di quanto succede al sud e quindi c'è sistematicamente l'esodo di persone che al sud magari si ammalano e cercano di trasferirsi al nord per essere curati e vivere il più lungo possibile l'istituto superiore di sanità oggi lo sentiamo nominare purtroppo tutti i giorni con questa emergenza ha segnalato che la mortalità per cancro in campagna nelle città di grandi smaltimenti di rifiuti tossici è aumentata negli ultimi anni del 21% ecco vedete che questo testo è appunto un reportage e anche argomentativo no? cioè Saviano non espone soltanto così delle idee un po' campatinarie ma poi cerca sempre le sue idee cerca sempre di argomentarle con delle statistiche con dei dati che vadano a corroborare le sue idee in questo caso cita appunto una statistica dell'Istituto Superiore di Sanità bronchi che marciscono tra che che iniziano ad arrossarsi e poi l'attacchi in ospedale e le macchie nere che denunciano il tumore chiedendo il luogo di provenienza dei malati campani spesso viene fuori l'intero percorso dei rifiuti tossici come capiremo meglio anche poi dalle pagine seguenti ma già qui abbiamo capito anche un'altra cosa in merito a questo feccanismo perverso e chiaramente illecito quando appunto si parlava del fatto che i contadini sono arrabbiati perché vedono spuntare frutta e verdura che poi non possono vendere perché non rispetta chiaramente dei criteri di igiene i proprietari terrieri disperati svendono le proprie coltivazioni cioè abbiamo capito e poi Saviano lo spiegherà meglio anche nelle pagine successive che si è ormai venuto a innestare un inquietante e perverso circuito vizioso per cui tutti più o meno ci guadagnano a partire dai grandi industriali che come vi ho detto prima risparmiano sui costi di smaltimento dei rifiuti tossici cioè dei rifiuti pericolosi i camorristi ovviamente sono pagati dagli industriali stessi che vogliono liberarsi delle loro scorie pericolose mentre i proprietari dei campi in cui sono allestite le discariche ci guadagnano cioè in che modo? perché vendono spesso magari con l'acqua alla gola infatti Saviano dice svendono comunque vendono i propri campi i propri terreni ormai improduttivi e li devono vendere quindi alla criminalità organizzata che trasforma appunto quei terreni in enormi discariche abusive una volta avevo deciso di attraversare a piedi la terra dei fuochi mi ero coperto naso e bocca con un fazzoletto l'avevo legato sul viso come facevano anche i ragazzini rom quando andavano a incendiare i rifiuti dopo aver citato il dato statistico dell'istituto superiore di sanità notiamo che qui Saviano sempre per corroborare quanto appena espresso cita un'esperienza personale quello che si diceva prima il fatto che siamo in questa nuova età della cosiddetta ipermodernità e per cui gli scrittori sentono di dover dire la verità e di riportare esperienze in prima persona sembravano bande di cowboy tra deserti di spazzatura bruciata camminavo tra le terre divorate dalla diossina riempite dai camion e svuotate dal fuoco così da non rendere mai saturi questi buchi quindi inizia una sequenza in cui Saviano ricorda di aver attraversato in prima persona questa terra desolata dai fuochi il fumo che attraversavo non era denso era come se fosse una patina collosa che si posava sulla pelle lasciando la sensazione di bagnato non lontano dai fuochi c'erano una serie di billette poggiate tutte su una enorme X di cemento armato erano case adagiate su discariche chiuse discariche abusive che dopo essere state utilizzate sino all'orlo dopo aver bruciato tutto ciò che poteva essere bruciato si erano esaurite colme sino esplodere i clan erano riusciti a riconvertirle in terreni edificabili del resto ufficialmente erano luoghi di pastorizia e coltivazione e così avevano tirato su graziosi agglomerati di billette il terreno però non dava affidabilità avrebbero potuto esserci smottamenti improvvise voragini e così maglie di cemento armato strutturate come resistenti X di rinforzo rendevano sicure le abitazioni billette vendute a basso prezzo seppure tutti sapevano che si reggevano su tonnellate di rifiuti impiegati pensionati operai di fronte alla possibilità di avere una villa non andavano a guardare nella bocca del terreno su cui posavano i pilastri delle loro case ecco un'altra riflessione molto interessante sempre qui anche per voi che fate architettura poi vabbè mi avete un po' spiegato che in effetti magari queste questioni giustamente ancora non le toccate le farete per chi si iscriverà alla facoltà universitaria comunque ecco è una riflessione anche diciamo appunto che ha a che fare con le costruzioni no cioè quando queste discariche abusive raggiungono il loro culmine e vabbè non c'è più è inutile bruciare nel senso che il fatto della bruciatura riduce il volume dei rifiuti ma quando poi la discarica è colma è colma e allora Saviano ci spiega cosa fa la camorra in questi casi per guadagnarci ancora fino all'ultimo riesce chiaramente poi dietro corruzione anche se qui non viene detto dietro corruzione degli organi pubblici riesce a riconvertire quei terreni in terreni edificabili ci costruisce delle case che poi vende ovviamente a basso prezzo però comunque c'è un giro d'affari anche nel campo dell'edilizia dopo che la procedura di smaltimento illecito dei rifiuti si è esaurita perché la discarica ha raggiunto il colmo e non può più essere riempito ulteriormente dei rifiuti il paesaggio della terra dei fuochi aveva l'aspetto di un'apocalisse continua e ripetuta rutinaria come se nel suo disgusto fatto di percolato qui c'è scritto in nota il percolato è una sostanza altamente contaminante che si forma sempre nelle discariche per l'infiltrazione dell'acqua tra i rifiuti o per la decomposizione dei rifiuti stessi quindi il paesaggio a terra dei fuochi aveva l'aspetto di un'apocalisse continua e ripetuta quindi quasi un paesaggio lunare un paesaggio assolutamente innaturale ecco come se nel suo disgusto fatto di percolato e copertoni non ci fosse più una di cui stupirsi nelle inchieste veniva segnalato un metodo per tutelare lo scarico di materiale tossico dalle interferenze di poliziotti e forestali un metodo antico usato dai guerriglieri dai partigiani poi notiamo ancora una volta proprio questo è un bel esempio anche di testo argomentativo dopo aver richiamato un'esperienza in prima persona Saviano dice quella cosa che io vi ho detto all'inizio della sequenza è vera perché l'ho vista io e vi ricordo un'esperienza che ho vissuto dopo aver citato l'istituto superiore di sanità e le ricerche dell'istituto qui vengono portate all'attenzione del lettore delle inchieste evidentemente quindi inchieste di polizia che avevano segnalato un metodo appunto per tutelare lo scarico di materiale tossico un metodo antico adesso capiamo usato dai guerriglieri dei partigiani in ogni angolo del mondo usavano i pastori come pali ecco allora che capiamo meglio appunto come questo sistema di cui parla Saviano sia veramente articolato come in tutti i sistemi ogni parte fa la sua parte e fa in modo che il sistema si regga in un tutt'uno cioè veniamo a scoprire che anche i pastori del luogo sono coinvolti in questo sistema servono come guardie dei clan e devono segnalare la presenza sospetta di eventuali intrusi all'interno della terra di fuochi e quindi diventano uno strumento di controllo del territorio pascolavano pecore capre qualche vacca del resto la pastorizia l'ha detto anche prima Saviano era l'attività originaria in queste terre insieme all'agricoltura i migliori pastori in circolazione venivano assunti per badare gli intrusi piuttosto che a montoni agnelli appena vedevano macchine sospette avvertivano lo sguardo il cellulare erano armi inattaccabili li vedevo spesso gironzolare con i loro greggi rinsecchiti obbedienti al seguito una volta li avvicinai volevo vedere le strade dove i ragazzini smaltitori si esercitavano per guidare i camion ormai i camionisti non volevano più guidare i carichi sino allo sversamento ecco Saviano aggiunge un altro dettaglio adesso dovrà descrivere più nel dettaglio come i rifiuti venivano portati dalle aziende in questi luoghi chiaramente lo strumento non potevano essere che camion ma chi guidava questi camion dice i camionisti non volevano più guidare i carichi sino allo sversamento l'inchiesta ecco un'altra inchiesta riportata il dorado del 2003 quindi per inchiesta non si intende attenzione inchiesta giornalistica quando hanno questi nomi sono inchieste di polizia quindi delle operazioni di polizia aveva dimostrato che venivano sempre di più utilizzati i minori per queste operazioni i camionisti non si fidavano a entrare troppo in contatto con i rifiuti tossici del resto era stato proprio un camionista a far partire la prima importante inchiesta sul traffico di rifiuti nel 1991 Mario Tamburrino era andato in ospedale con gli occhi gonfi le orbite sembravano tuorle l'uovo che le palpebre non contenevano più era completamente accecato le mani avevano perso il primo strato di epidermide gli bruciavano come se gli avessero incendiato benzina sul pago un fusto tossico gli si era aperto vicino al viso e tanto era bastato per accecarlo e quasi bruciarlo vivo bruciarlo a secco senza fiamme dopo quell'episodio i camionisti chiedevano di trasportare i fusti nei carichi dell'autotreno tenendoli a distanza col rimorchio e non sfiorandoli mai i più pericolosi erano i camion che trasportavano il compost adulterato con cime mischiato a veleni quindi compost adulterato un'ulteriore strategia sempre di dissimulazione cioè la camorra poteva scegliere questa strategia per poi sversare i rifiuti tossici mischiarli con del concime in modo tale che eventualmente anche se il carico fosse stato controllato dalla polizia potesse sembrare un carico regolare un carico di concime naturale solo inalarli avrebbe potuto compromettere per sempre l'apparato respiratorio l'ultimo passaggio quando i tir dovevano scaricare i fusti in alcuni camioncini che li avrebbero traghettati direttamente nella fossa della discarica era il più rischioso nessuno voleva trasportarli quindi Saviano ci sta dicendo che ormai già da tanti anni dal 91 i camionisti spesso erano riluttanti a eseguire gli ordini dei clan camorristi perché conoscevano bene i pericoli appunto implicati dal trasporto ai fiuti tossici i fusti nei camioncini venivano stipati uno sopra l'altro e spesso si ammaccavano facendo venire fuori le esalazioni così appena gli autotreni giungevano i camionisti non scendevano neanche li lasciavano svuotare poi dei ragazzini avrebbero portato a destinazione il carico quindi notiamo veramente appunto questo sistema tentacolare della mafia camorristica si avvale addirittura all'inizio della pagina vi ricordate citato i Rom che erano proprio coloro che alla fine di tutto il processo davano fuoco utilizzando le pellicole di vecchie videocassette come micce qui ancora un riferimento invece a dei ragazzini quindi evidentemente dei minorenni utilizzati per proprio fare la parte più sporca del lavoro e che era quella che metteva anche più repentagno la salute un pastore mi indicò una strada in discesa dove si esercitavano a guidare prima dell'arrivo del carico in discesa gli insegnavano a frenare con due cuscini sotto il sedere per fargli arrivare ai pedali questo ci dice anche del fatto che erano veramente giovanissimi ancora quasi dei bambini 14 15 16 anni 250 euro a viaggio ovviamente pagati per fare questa operazione soldi sporchi cioè soldi ovviamente illeciti che la mafia riceveva ovviamente dagli imprenditori per compiere tutta questa procedura li reclutavano in un bar il proprietario sapeva e non usava neanche ribellarsi ma rivelava il suo giudizio sui fatti a chiunque davanti ai cappuccini e ai caffè che serviva quindi addirittura pure i baristi un po' coinvolti anche se qui dice ci fa capire Saviano che da qualche barista Saviano aveva avuto la soffiata ecco per di questa informazione quella roba che gli fanno portare più se la buttano in corpo quando respirano prima li farà schiattare questi li mandano a morire non a guidare tra virgolette evidentemente ecco questa è la rivelazione di un barista anonimo che aveva fatto questa soffiata a Saviano sul posto i piccoli autisti più sentivano dire che la loro era un'attività pericolosa mortale più sentivano di essere all'altezza di una missione così importante sì c'è quindi anche il discorso un po' diciamo quasi ideologico ma poi molto importante il fatto che in questa terra comunque di grande povertà venissero pagati 250 euro a viaggio una cifra importante per dei ragazzini cacciavano dal petto in fuori uno sguardo sprezzante dietro gli occhieri da sole si sentivano bene anzi sempre meglio nessuno di loro neanche per un istante poteva immaginarsi dopo una decina d'anni a fare la chemioterapia a vomitare mille con stomaco fegato e pancia spappolati beh perché ovviamente le conseguenze di queste esalazioni sono soprattutto a lungo termine a maggior ragione su un fisico comunque robusto e giovane come il fisico di un ragazzino continuava a piovere in pochissimo tempo l'acqua inzuppò la terra che ormai non riusciva ad assorbire più nulla un'ultima atroce conseguenza tutta questa procedura è che va a intaccare la terra stessa non più in grado di assorbire come in natura la pioggia e che quindi diventa subito un gigantesco pantano puzzolente i pastori impassibili si andarono a sedere come tre santoni emaciati sotto una specie di pensilina costruita con le lamiere continuavano a fissare la strada mentre le pecore si mettevano in salvo arrappicandosi su una collina di spazzatura uno dei pastori manteneva un bastone che spingeva contro la tettoia inclinandola per evitare che si riempisse d'acqua e cascasse sulle loro teste ero completamente zuppo ma tutta l'acqua che mi crollava addosso non riusciva a spegnere una sorta di bruciore che mi saliva dallo stomaco e si irradiava sino alla nuca cercavo di capire se i sentimenti umani erano in grado di fronteggiare una così grande macchina di potere se era possibile riuscire ad agire in un modo in un qualche modo in un modo possibile che permettesse di salvarsi dagli affari permettesse di vivere al di là delle dinamiche di potere e quindi notiamo che in questa che è proprio l'ultima sequenza delle pagine che leggiamo ma anche del libro dopo una dopo pagine di fatto argomentative descrittive anche ovviamente qui si chiude il testo con una sequenza riflessiva sotto questa pioggia battente e che non riesce a essere più trattenuta dalla terra perché la terra è marcia e magida di rifiuti Saviano ricorda di aver fatto una riflessione in quel frangente che ora riporta è una riflessione amara in cui vengono in primo piano i dubbi di Saviano che si chiede adesso poi leggiamo si chiede di fatto cosa sia più importante se la salvaguardia dell'ambiente oppure i profitti mi tormentavo cercando di capire se fosse possibile tentare di capire scoprire sapere senza essere divorati triturati la riflessione appunto come scritto anche qui in nota sul dovere di capire e cercare di evitare la tentazione di diventare complici di questo sistema approfittare della ricchezza che comunque la mafia offre abbiamo visto appunto questi 250 euro a viaggio dati ai poveri ragazzini quindi Saviano si chiede se appunto sia dovere di ogni cittadino capire piuttosto che cadere nella tentazione appunto anche delle ricchezze offerte dal sistema della mafia per entrarne a farne parte o se la scelta era tra conoscere ed essere compromessi o ignorare e riuscire quindi a vivere serenamente forse non restava che dimenticare non vedere ascoltare la versione ufficiale delle cose tra sentire solo distrattamente e reagire con un lamento mi chiedevo se potesse esistere qualcosa che fosse in grado di dare la possibilità di una vita felice o forse dovevo solo smettere di fare sogni di emancipazione di libertà anarchiche e gettarmi nell'arena ficcarmi una semi-automatica nelle mutande e iniziare a fare affari quelli veri convincermi qui è chiaramente un'immagine di un mafioso quella della semi-automatica delle mutande cioè una pistola convincermi di essere parte del tessuto connettivo del mio tempo e giocarmi tutto comandare ad essere comandato divenire una bella da profitto un rapace della finanza un samurai dei clan e fare della mia vita un campo di battaglia dove non si può tentare di sopravvivere ma solo di crepare dopo aver comandato e combattuto sono nato in terra di camorra nel luogo con più morti ammazzati d'Europa nel territorio dove la ferocia è annodata agli affari dove niente ha valore se non genera potere dove tutto ha il sapore di una battaglia finale sembrava impossibile avere un momento di pace non vivere sempre all'interno di una guerra dove ogni gesto può divenire un uccidimento dove ogni necessità si trasformava in debolezza dove tutto devi conquistarlo strappando la carne all'osso qui è uscito un po' male la scansione comunque qui significa strappando in terra di camorra combattere i clan non è lotta di classe affermazione del diritto riappropriazione della cittadinanza non è la presa di coscienza del proprio onore la tutela del proprio orgoglio è qualcosa di più essenziale di ferocemente carnale in terra di camorra conoscere i meccanismi di affermazione dei clan le loro cinetiche ed estrazione i loro investimenti significa capire come funziona il proprio tempo in ogni misura e non soltanto nel perimetro geografico della propria terra porsi contro i clan diviene una guerra per la sopravvivenza come se l'esistenza stessa il cibo che mangi le labbra che baci la musica che ascolti le pagine che leggi non riuscissero a concederti il senso della vita ma solo quello della sopravvivenza e così conoscere non è più una traccia di impegno morale sapere capire diviene una necessità l'unica possibile per considerarsi ancora uomini degni di respirare quindi dopo diciamo aver esposto tutti i propri dubbi che riguardano anche le sue scelte di vita la sua ostinata posizione alla camorra e alle devastazioni che esse impone nelle terre di isolanza sotto il suo controllo alla fine Saviano giunge a questa conclusione la conclusione ovviamente è che non bisogna mai scendere a patti con la mafia sembra quasi che Saviano in qualche modo forse comprenda chi lo fa soprattutto per questioni di povertà però dice alla fine di questo capoverso bisogna sapere bisogna capire non bisogna cioè farsi trascinare dal sistema bisogna capire come funziona capire è l'unica strada possibile per considerarsi ancora uomini degni di respirare e quindi ci vuole dire Saviano appunto che almeno nell'immediato la camorra è potente è ricchissima offre possibilità di sopravvivenza a tante persone che sono nella disperazione nel senso in questa terra però il dovere di un cittadino ma non solo di un cittadino ma quasi di un uomo che si ritiene degno di respirare è capire questo sistema capire questo meccanismo e poi certo anche denunciarlo perché è quello che ha fatto Saviano scrivendo questo libro la riflessione di fatto finisce qui dalla riga 144 c'è un'ultima scena molto curiosa che leggiamo con cui Saviano ha voluto chiudere il suo libro avevo i piedi immersi nel pantano quindi si ritorna alla descrizione di quella giornata che è mente vissuta nel ricordo l'acqua era salita fino alle cosce sentivo i talloni sprofondare dai vanti e migli occhi galleggiavo un enorme frigo sì perché in tutto questo in queste discariche abusive a cielo aperto oltre a esserci i rifiuti tossici che sono quelli più pericolosi poi chiaramente vengono scaricati anche rifiuti che magari non sono pericolosi ma che sono comunque difficili da smaltire come i frigoriferi quindi Saviano vide un frigorifero enorme che galleggiava su questo pantano maleodorante mi ci lanciai sopra lo avvinghiai stringendolo forte con le braccia e lasciandomi trasportare mi venne in mente l'ultima scena di Papillon il film con Steve McQueen tratto al romanzo di Henry Chappell e quindi c'è una citazione addirittura di un film anche io come Papillon sembrava galleggiare su un sacco colmo di noci di cocco sfruttando le maree per sfuggire alla Cayenna era un pensiero ridicolo ma in alcuni momenti non c'è altro da fare che assecondare i tuoi deliri come qualcosa che non scegli come qualcosa che subisci e basta avevo voglia di urlare volevo gridare volevo stracciarmi i polmoni come Papillon con tutta la forza dello stomaco spaccandomi la trachea con tutta la voce che la gola poteva ancora pompare maledetti bastardi sono ancora vivo e con questa esclamazione anche molto forte una parola diciamo volgare si chiude il reportage di Saviano cosa significa quest'ultima scena ebbè evidentemente come troverete anche riportato poi nella pagina successiva che è soltanto una guida alla lettura quest'ultima scena con questo protagonista Saviano che si trova in equilibrio precario e fragile sul corpo galleggiato di un frigorifero ebbene questa scena vuole riassumere l'assurdità di un sistema il sistema della camorra e di uno stile di vita lo stile di vita che molti abitanti della campagna hanno secondando il sistema della camorra è semplicemente assurdo ma con questa scena anche con cui Saviano abbraccia il frigorifero ci vuole anche dire che il dramma della terra dei fuochi che Saviano ha vissuto in prima persona perché lui lì c'è nato lo ha detto anche in quest'ultima pagina e ci ha vissuto ma non è soltanto un dramma della terra dei fuochi è il nostro dramma è il dramma di tutti noi italiani ma forse anche ci vuol dire Saviano e tutti coloro che abitano su questo pianeta un dramma quotidiano presente nella nostra vita di tutti i giorni e con questa quindi scena molto particolare chiudiamo anche ecco questo percorso sulla natura anche se mi riservo di fare magari un'ultima video lezione anche con qualche riflessione ripeto di arte figurativa sempre strettamente contemporanea pensavo magari ad esempio a qualche opera di Banksy però ecco chiudiamo questo percorso diciamo più strettamente letterario così con questa pagina di Saviano spero chiara e di solito penso che questa possa anche piacere il suggerimento è perché no anche andare a leggervi tutta Gomorra oltre che guardare il film e per questo magari ripeto cercherò di procurarvelo io e poi di passarvelo su Google Drive è chiaro che questa riflessione quindi si lega al tema della natura nel senso che è una pagina di appunto ecocritica di coscienza ecologica ma in cui si innestano tante altre riflessioni anche di cittadinanza sul fatto che un vero cittadino non può anche se è stretto dalla necessità dalla povertà non può e non deve mai scendere a patti con un sistema come quello della mafia che è un sistema tentacolare di criminalità diffusa ecco che abbiamo visto si avvale di tanti pezzettini per creare appunto un unico tentacolare sistema che funziona perfettamente ma che purtroppo ha delle conseguenze anche sulla salute di tutti tra l'altro ecco sicuramente Saviano nel momento in cui ricorda il fatto che i ragazzi i famosi ragazzini poi tra dieci anni aveva scritto saranno colpiti da patologie tumurali quando anche ha fatto quella riflessione sulle billette costruite sopra le discariche colme di rifiuti sta anche dicendo che di fatto la potenza di queste organizzazioni camorristiche pogge in realtà su basi ben più fragili quanto possa sembrare perché appunto nell'immediato la camorra è un sistema sicuramente potente e ricchissimo come dimostrato in queste pagine ma nel corso degli anni in una prospettiva futura il prezzo da pagare per questa ricchezza facile dovuta a malaffari con imprenditori è un prezzo da pagare molto alto è appunto la diffusione del cancro confermata anche all'inizio di questa di questa pagina dalla statistica dell'istituto superiore di sanità è un problema che anche la mafia dovrà diciamo in qualche modo affrontare e quindi alla devastazione morale alla devastazione ambientale si associa anche la piaga della devastazione sanitaria e questa volenti o dolenti anche i mafiosi dovranno affrontarla bene quindi spero sia stato tutto chiaro poi ricordo anche che comunque giovedì alle ore 9 ci vedremo in live anche per eventuali domande alla prossima quindi